buongiorno mister e ben ritrovato buongiorno vigilia di campionato inizia il girone di ritorno prossimo avversario il genoa e sei pronto a rispondere alle domande inviate dai giornalisti iniziamo dalla prima innanzitutto come sta messias è pienamente recuperato visto che ieri ha svolto l'allenamento con la squadra e lo manderà in campo dal primo minuto si sta bene ha già fatto ieri oggi l'allenamento con la squadra quindi è tutta la tutta la settimana che salina parte quindi tutto sommato è a pieno regime di carmine potrebbe essere una soluzione già dell'inizio della gara per domani o magari in corso ci sto pensando sta bene sta molto bene fisicamente quindi potrebbe essere un'opportunità luperto e rivier come stanno sono in grado di giocare dal primo minuto sì assolutamente a parte Cuomo Molina e Cigarini il resto della rosa è tutto a disposizione il successo nella prossima partita sarebbe essenziale per continuare nella corsa salvezza ma io penso che mai come domani abbiamo la possibilità abbiamo un bel jolly consentitemi di dire questo vista la classifica visto che che oltretutto c'è uno scontro diretto in questo momento per 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 ragioni di classifica potrebbe essere davvero non è un'opportunità domani come si affronta il genoa che con ballardini ha cambiato marcia la squadra temibile è una squadra che ha messo dentro dei giocatori di livello internazionale di sicuro è una rosa super competitiva l'ho detto anche la settimana scorsa affrontando la la fiorentina una rosa che con noi non c'entra niente ma è lì anche se ha avuto un trend diverso con con l'arrivo di di ballardini oltretutto ho letto anche delle statistiche non prende gol da 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 parecchie partite e quindi sta a a significare qual è la la forza di questa squadra che andremo ad affrontare domani benali in campo fin dall'inizio e novità a proposito di cigarrini beh di cigarrini l'ho già detto navighiamo a giornalmente le cose stanno andando bene si allena parte e cerchiamo di di rintegrarlo senza correre i rischi di di ricadute per quanto riguarda benali è a disposizione come lo sono gli altri che hanno recuperato degli infortuni al netto di infortuni e o indisponibilità ha cambiato spesso e troppo gli interpreti della difesa 3 perché non ha ancora trovato la quadra o per dare minutaggi a tutti e non pensa che questo tolga sicurezza il reparto assolutamente no parlando proprio di statistiche penso che quasi tutti a parte gg abbiano giocato dalle 12 alle 13 partite titolari si equivalgono sicuramente ho dei dei riferimenti e di volta in volta rispetto anche alle caratteristiche dell'avversario posso permettermi di cambiare siamo al 30 gennaio ed è arrivato finora un solo rinforzo si aspettava uno sforzo maggiore da parte della società assolutamente no vivo quotidianamente il lavoro della società quello che stanno facendo e stanno cercando di fare quindi assolutamente non metto in dubbio lo sforzo anzi insieme a me stanno cercando di stanno cercando di completare dove possiamo colmare i vuoti o dove possiamo migliorare la rosa ci sono ancora dei giorni ci sono delle situazioni in ballo quindi assolutamente so che stiamo facendo il possibile di costiamo facendo perché ripeto sono assolutamente coinvolto in quello che la società sta facendo per chiudere vi attende un girone di ritorno impegnativo ma non impossibile per raggiungere la salvezza no io penso che se guardiamo quello al percorso che abbiamo fatto c'è tanto da recriminare nonostante i nostri limiti nonostante le cose non buone che non siamo riusciti a fare di sicuro ci sono state delle prestazioni straordinarie ma non mi riferisco al gioco proprio nelle occasioni create nel nel modo di tenere il campo la squadra ha dimostrato tantissime qualità purtroppo abbiamo raccolto molto meno quindi mi auguro e spero di fare così chiaramente anche meglio nei risultati ma ma abbiamo la consapevolezza che ce la possiamo ce la possiamo fare ok grazie mister grazie